Disegno industriale, ovvero il design al servizio della cittadinanza. Una stampante 3D ed è, dopo un lavoro di sperimentazione e ricerca, un lavabo dedicato a chi è affetto dal morbo di Parkinson. Una stampante 3D ed è una sedia, una scarpa che dopo una particolare scansione vengono create sulla forma della schiena e del piede del consumatore. È il futuro, bellezza, avrebbe detto qualcuno, futuro che passa dalla tappa conclusiva dei laboratori di disegno industriale, del professor Dario Russo del Dipartimento di Architettura di Palermo. In questo caso noi siamo partiti attraverso l'aiuto di un osteopata a capire in ogni persona qual è il problema fisiologico, in questo caso partendo dai problemi di postura della colonna vertebrale attraverso anche una scansione 3D. Abbiamo realizzato la seduta personalizzata, quindi in questo caso non è più la persona che si adatta alla sedia ma la sedia che si adatta alla persona. Università e aziende insieme al servizio della sperimentazione e della ricerca nella tappa conclusiva del laboratorio di disegno industriale. Il laboratorio è una sperimentazione sul campo. Attraverso il coinvolgimento di 5 aziende design oriented che io amo definire illuminate, è stato possibile nel laboratorio coniugare la didattica con concrete opportunità professionali. Così il laboratorio mantiene la sua promessa alla sua quinta edizione fungendo da ponte tra l'università e le imprese del territorio, tra gli studenti e il mondo del lavoro. Sono due realtà che dovrebbero essere conseguenti ma che paradossalmente spesso sono molto distanti l'una dall'altra. Ecco, cominciamo così, riusciamo questa distanza. E a proposito di collaborazione, degno di note il lavoro effettuato dagli studenti del laboratorio con il mobilificio palermitano Caruso Handmade che hanno dato nuova vita agli arredi di Ernesto Basile che sono dei veri e propri pezzi di storia Liberti. Questi arredi sono stati presi e sono stati ridisegnati sulla base dei progetti di Ernesto Basile. I ragazzi hanno lavorato prima su delle foto archivio fornite dall'archivio Basile e poi tramite alcuni tecnici forniti dall'azienda della Caruso Handmade sono stati in grado di riportarli sulla base tecnica il loro funzionamento e soprattutto la loro composizione. Questi arredi oltre a essere stati disegnati e a essere stati riportati in maniera materiale e immateriale sulla base di un'idea data dal professore Filippo Allison verranno inseriti in un catalogo e poi verranno venduti sul mercato che hanno ovviamente in azienda con la Caruso Handmade che è in Russia e negli Emirati Arabi.